Quando i governatori del Nord, quando Zaia, Fontana, Fedriga, Fugatti chiedevano interventi seri, radicali ad esempio sulle scuole per mettere sotto controllo i bimbi che tornavano da zone a rischio, si sono beccati dei razzisti, dei fascisti, dei leghisti, dei trogloditi e il Presidente Conte diceva nessun problema fidatevi di me, fidatevi del governo e ancora la settimana scorsa il Presidente del Consiglio senza nessuna vena polemica, questa è cronaca, questo è giornalismo, questo c'è su internet, nell'era di internet quello che dici rimane, tutto sotto controllo, nessun allarmismo, io ricordo anche il governatore del Lazio Zingaretti che ai primi di febbraio diceva è un'influenza come un'altra, anzi è meno grave dell'influenza perché fa più morti l'altra influenza, ci sono solo due casi, quindi non è il caso di allarmarsi, questa è la storia.